Perché adesso cominceremo... no, iniziamo subito ed entriamo nell'oggetto del presente video. Allora, perché questo video? Questo video nasce per rispondere dottrinalmente, fantastico, qui entriamo nel campo dottrinale, ha una grande aberrazione che questo mondo ufologico, con il suo birillo di turno, qui in Italia, ma è già storia vecchia, è già un paio di secoli che gira sta sciocchezza, avallata anche dal mondo cattolico, e che noi andremo con l'aiuto del Signore e per la sua grazia a distruggere. E per entrare lo faremo, come dire, descrivendo sempre questo mondo, questi mondi, scusate, come presentano la loro posizione. E quindi loro dicono, vediamo, vi vogliamo dire una cosa? E cominciano a tirare fuori il mondo cattolico, no? Perché quando gli pare lo usano a loro convenienza, come pretesto. O si inventano una storia dell'incredibile e cominciano a dire, noi vi vogliamo dire una cosa, voi cattolici siete stati ingannati, e tutti noi non siamo cattolici, ma, insomma, ci incuriosiamo, Dio, l'hanno ingannati, il collegio cardinalizio, il prelato, il papato, ha ingannato i suoi fedeli, Oddio, che è successo? Ci siamo incuriositi? Sì, vi hanno ingannati, vi hanno occultato, vi hanno insabbiato il sapere, vi hanno annebbiato, vi hanno velato, vi hanno appannato la vista, non avete più occhi per guardare, vi hanno ottenebrato la mente, anzi, vi nascondono risolutamente, vi solute, grettamente, tutta la verità. E quindi voi vi dovete svegliare, ma adesso noi vi diremo tutta la verità, e tutti quanti che si stavano, tutti quanti ci si reggeva alla sedia, ci si reggeva agli uni gli altri, ci si confortava agli uni gli altri davanti a queste grandi rivelazioni per poter capire cosa mai il prelato, il collegio cardinalizio, il papato, tutti quanti questi hanno fatto questo mega complotto nei confronti dei propri fedeli, dell'umanità di tutto il mondo per celare chissà quale verità, che improvvisamente uno, qualsiasi, sul web, che non sa né parlare, né sa se zitto, a un certo punto, non si sa con quale competenza, stava per rivelare tutti noi, ahimè, tutti che si chiamava, che si telefonava, chi chiamava il proprio parente all'estero, guarda connettiti qui, perché c'è uno che sta per fare la mega rivelazione, eccetera, 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 quando era giunto il momento perché costoro finalmente rivelassero a tutto il mondo cattolico e a tutto il mondo questa grande verità, nel farlo, essi dicono, vi presenteremo la documentazione che riporta quanto vi stiamo per rivelare tutti quanti, forse ci siamo detti, forse sono andati al deep web a cercare questa grande verità, chissà quale canale, hanno mai dovuto investire per giungervi, alla fine presentano il documento che nasconderebbe questa grande verità a tutto il mondo cattolico. Ebbene, cari amici, ce l'abbiamo anche noi questo documento segretissimo, dove si trova la più grande verità del secolo che questi mondi ci hanno voluto rivelare. Ecco a voi il documento. vi hanno nascosto, nessuno vi ha detto, vi stanno prendendo in giro, ma noi vi diciamo quello che loro vi stanno nascondendo, dove lo vanno a prendere? In una qualsiasi Bibbia cattolica, che qualsiasi persona sulla faccia della terra può acquistare. Questa costa un pochettino, ma al supermercato trovi quelle che costano 3 euro e portano la stessa scrittura di questa che adesso leggeremo. L'hanno aperta. Adesso la leggeremo. E hanno detto, appunto, vi stanno prendendo in giro la gente. Come dire, uno che qualcuno dirà, ma loro non leggono la Bibbia. Ascolta, se voi dite che siete intelligenti, una persona che va a scuola e non studia, la colpa non è della scuola, del direttore o degli insegnanti, è di chi non studia. Ok? Se i cattolici non leggono quello che c'è scritto qua dentro, la colpa non è né del... e qui non stiamo difendendo, ci mancherebbe i cattolici, ma è la situazione, buffa, non stiamo difendendo né il collegio cardinalizio né niente, ma la colpa in questo caso non è del collegio cardinalizio, non è del papato, non è del prelato, è di chi non legge. Quindi dire che loro hanno nascosto questa grande verità che adesso vedremo in che consiste e poi dopo prendi una qualsiasi Bibbia e gliela leggi davanti una webcam è praticamente l'equivalente a una persona che dentro al cervello, detto proprio alla romana, ha tre bagarozzi, due girano la corda e il terzo sarta. Ce fanno un video? Ce fosse uno solo? Uno solo? Che nei commenti sottostanti al video avesse rappresentato questa grande figuraccia? hanno nascosto? Vi hanno nascosto? Vi stanno nascondendo? Vi stanno prendendo un giro? Vi stanno occultando? Noi vi riveleremo la verità? La Bibbia. Sta qua dentro. Nei commenti interni o sottostanti o adiecenti o in appendice dipende dove stanno dei libri canonici. Siccome il video si sta dilungando se voi avete allora abbiate pazienza se voi avete la Bibbia di Gerusalemme questa qua che dovrebbe essere delle 60 a me pare vabbè stiamo a perdere un sacco di tempo nelle loro Bibbie nelle loro Bibbie praticamente c'è scritto ecco noi non noi non quindi qui parentesi devo fare aspetta devo cercare di capire come lo devo dire che se lo diciamo male poi non si capisce allora noi qui come vedete non c'è da condannare che il prelato il collegio cardinalizio e il papato abbiano nascosto perché come vedete bando agli scherzi come vedete l'hanno messo nel nero subiaco quindi l'hanno come di hanno fatto sì che questa informazione fosse disponibile a tutto il mondo ecco ripetiamo se uno va a scuola e non studia la colpa non è né dei professori né del ministerio all'istruzione né del direttore né dei tuoi genitori ma la colpa è tua che devi studiare perché i tuoi genitori ti dicono studia ma tu non studi e poi la colpa è tua quindi in questo non hanno colpa la colpa però sta nell'aver asserito una cosa del genere per andare a distruggere la Bibbia ecco questo sì il collegio cardinalizio perché poi quello che vi viene inserito qua dentro viene abballato dal responsabile di turno che è sempre un cardinale o due cardinali e infine il papato quindi il collegio cardinalizio sta facendo del tutto per distruggere poi la veridicità della parola di Dio qual è questa veridicità? se tu vai in questo libro qua dove iniziano i profeti maggiori i profeti maggiori si inizia a leggerli con il libro di Isaia eccolo qua Isaia prima di Isaia ci sono dei commenti introduttivi dei commenti introduttivi a tutti i profeti tra cui c'è anche il profeta Isaia però io per forza di cose ve lo vorrei leggere allora lo leggere di corsa velocissimamente e ve lo farò leggere anche a voi venite con con noi eccolo qua guardate quello che scrivono allora si vede poco Isaia è il più grande dei profeti messianici il messia vediamo che egli annuncia è un discendente di Davide che farà regnare sulla terra la pace e la giustizia e diffonderà la conoscenza di Dio un tale genio religioso ha profondamente segnato la sua epoca e ha fatto scuola mi fermo perché sto vedendo se riesco a farvelo vedere ma qui non si vede in H si conservarono le sue parole e vi si fecero aggiunte ecco qua qui sta dicendo che praticamente il libro di Isaia non l'ha scritto solo lui ma che qualcun altro vi ha fatto dell'aggiunte il libro che porta il suo nome è il risultato di un lungo lavoro di composizione di cui è impossibile ricostruire tutte le tappe il piano definitivo richiama quello di Geremia secondo il greco e di Ezechiele 1-12 oracolo contro Gerusalemme e Giuda 13-23 oracolo contro le nazioni 24-35 promesse ma questo piano non è rigido d'altra parte l'analisi ha mostrato che il libro seguiva solo in perfettamente l'ordine cronologico della carriera di Isaia è stato formato a partire da parecchie raccolte certi raggruppamenti risalgono al profeta stesso quindi non tutti i suoi discepoli immediati o lontani hanno riunito altri complessi glossando talvolta le parole del maestro o facendovi delle aggiunte quindi praticamente il collegio cardinalissimo il papato eccetera eccetera stanno dicendo che ci sono delle aggiunte poi vedremo meglio il perché gli oracoli delle nazioni raggruppati in 13-23 hanno raccolto brani posteriori in particolare 13-14 contro Babilonia dell'esilio aggiunte più estese le aggiunte più estese sono l'apocalisse di Isaia 24-27 che il genere letterario e la dottrina non permettono di collocare oltre il secolo quinto quindi ci sono più Isaia avanti Cristo una liturgia profetica dopo l'esilio 33 una piccola apocalisse dal 34 al 35 che dipende dal deutero Isaia infine si è messo in appendici il racconto all'azione di Isaia al momento della campagna di Sennacherib 36-39 ispirandosi a seconda re 18-19 con l'inserzione di un salmo post-esilico messo in bocca a Ezechia 38-9 a 20 in seguito il libro ha ricevuto aggiunte ancora più considerevoli i capitoli dal 40 al 55 non possono essere opera del profeta del 8 secolo quindi del 700 a.C. non solo il suo nome non è mai menzionato ma il quadro storico è posteriore a quasi due secoli Gerusalemme è presa il popolo è prigioniero in Babilonia Ciro è già in scena e sarà lo strumento della liberazione certo l'onipotenza divina potrebbe trasportare il profeta in un avvenire lontano separarlo dal presente e cambiare le sue immagini e i suoi pensieri ma ciò suppone uno sdoppiamento di personalità e una dimenticanza dei suoi contemporanei come se fosse un bipolare insomma verso i quali è stato inviato che sono senza esempio nella Bibbia e contrari alla nozione stessa di profezia che fa intervenire il futuro solo come un insegnamento per il presente questi capitoli contengono quindi la predicazione di un anonimo un continuatore di Isaia un grande profeta come lui che in mancanza di meglio noi chiamiamo Deutero Isaia o il secondo Isaia poi ci sarà anche un trito Isaia e gli ha predicato in Babilonia tra le prime vittorie di Ciro vabbè poi qui continua qui c'è dell'arto poi qui dice l'ultima parte del libro è stata considerata come l'opera di un altro profeta che si chiama il trito Isaia il terzo Isaia eccetera 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 allora cari amici questo è appunto quanto abbiamo letto qua questa è la Bibbia ok questo è quanto abbiamo letto ok allora al di là del fatto maccheronico roccambolesco delle affermazioni di questi mondi ufologi ufologici new age agnostici eccetera 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 noi qui possiamo vedere come la chiesa cattolica nelle loro Bibbie dice dice che ci sono più Isaia almeno due oltre a quello vero e quindi c'è un deutero Isaia e poi c'è un trito Isaia ok questa questa situazione nasce dopo diciamo la venuta del Cristo vabbè adesso poi dopo ne parleremo diciamo che nel 1800 con la nascita dell'alta critica si è veramente sviluppato in modo esponenziale questo pensiero dei più Isaia perché questo perché l'alta critica non ammette la profezia l'alta critica dice che se ci si trova davanti uno scritto che presenta una profezia in automatico bisogna portare lo scritto alla data di quella profezia perché la profezia non può esistere il soprannaturale non può esistere quindi rinnegano il soprannaturale nella parola di Dio la Chiesa Cattolica ha abbracciato questa posizione che appunto prenderà forza nel 1800 e soprattutto ai nostri giorni e comincerà ad avallare ora che cosa fa questo mondo ufologico questo mondo ufologico presenta gli iscritti della Chiesa Cattolica dice vedete siete voi stessi che lo dite sì ma voi chi il collegio cardinalizio il cattolicesimo ma come già detto nei video precedenti i cattolici in teoria sono un miliardo e due che poi non sono un miliardo e due sono sì e no 700 milioni perché la maggior parte il miliardo e due nasce dal fatto che uno nasce un bambino nasce viene battezzato e diventa cattolico ma poi per tutta la sua vita non andrà mai più in una Chiesa Cattolica quindi non so cattolici quindi alla fine i cattolici veri e propri si riducono a 700 milioni ma facciamo finta che so un miliardo e due ma ce ne so altri un altro miliardo e due che sono composti di 200 milioni o 250 milioni di protestanti che sono gli anglicani i luterani e i calvinisti e un miliardo di evangelici tra cui di questi di questo miliardo di evangelici solo 700 milioni siamo noi che siamo gli evangelici pentecostali qualcuno dice ma tu sei evangelico o pentecostale no i pentecostali siamo evangelici per eccellenza anzi con tutto rispetto per gli altri siamo così come i battisti e tanti altri per carità ma noi siamo proprio evangelici puro sangue proprio il ceppo del mondo evangelico e il ceppo pentecostale è così grosso che a un certo punto ci hanno cominciato a mettere gente pastori falsi pastori massoni pastori gesuiti scusate lo dico chiaro e tondo per poi infiltrare cattive dottrine far cadere la gente per terra e far credere al mondo che siamo che questo siamo noi no questo non siamo noi questi sono loro che ci hanno bugato e ci hanno filtrato e polli tutti quegli evangelici che gli vanno dietro noi denunciamo queste cose in maniera tale che le persone possano comprendere che non siamo tutti così quindi quando questo mondo ufologico dice vedete voi stessi voi stessi lo dite voi chi i cattolici ah si questo è avallato dal collegio cardinalizio e noi lo denunciamo perché questa roba qua è roba di sadana non è vero che ci sono stati tre isaia non è mai stato dimostrato e adesso noi affronteremo il tema da un punto di vista tecnico quindi con competenza vogliamo vedere le loro osservazioni allora questo si trova nella pagina 1525 della Bibbia di Gerusalemme non so se è dell'anni 60 questa comunque ben o male ho visto che parecchie Bibbie cattoliche riportano queste frasi sataniche e infelici perché praticamente stanno loro stessi abbiamo letto che non considerano attendibile il fatto che isaia si sia sdoppiato per fare una profezia del genere quindi rinnegano la profezia biblica rinnegano la profezia biblica rinnegano la Bibbia stessa rinnegano il Cristo bene allora loro dicono si conservarono le sue parole e vi si fescero aggiunte certi poi dicono certi raggruppamenti risalgono al profeta stesso stiamo leggendo quello che abbiamo stiamo rileggendo quello che abbiamo già letto qua ce lo siamo scritto per poterlo commentare qui ci siamo scritti diciamo quello che abbiamo letto così seguiamo la linea che se no poi dopo ci scordiamo no le cose invece abbiamo l'indice poi hanno detto i suoi discepoli immediati o lontani hanno riunito altri complessi glossando talvolta le parole di isaia o facendovi delle aggiunte nota bene glossare significa interpretare quindi loro stanno dicendo questo che hanno aggiunto delle cose secondo la loro interpretazione poi hanno scritto sempre qua ricordiamo che questo viene avallato dal collegio cardinalizio e dal papato quindi è ufficiale e noi dobbiamo difendere noi ci dispiace per tutti i cattolici che ci seguono ma noi abbiamo il comandamento che non possiamo amare gli altri più di dio o più della verità quindi noi denunciamo questa posizione anticristiana poi dicono gli oracoli delle nazioni capitoli 13 e 23 hanno raccolto hanno raccolto brani posteriori quindi che non sono di isaia vedete tutte le cose che stanno dicendo aggiunte più estese sono l'apocalisse di isaia capitoli dal 24 al 27 che il genere letterario non permettono di collocare oltre il secolo quinto il genere letterario quindi spostano la profezia biblica di isaia di 250 anni annullano la profezia poi abbiamo letto una piccola apocalisse capitoli 34 e 35 dipende invece dal deutero isaia continuano a negare la paternità di isaia infine si è messo continuano in appendice appendice alla fine quindi hanno aggiunto il racconto dell'azione di isaia al momento della campagna di senna che ribbe capitoli 36 e 39 ispirandosi a seconda re 18 e 19 potete leggerlo quindi isaia secondo loro non avrebbe scritto secondo il cattolicesimo e secondo l'alta critica che il cattolicesimo avalla un bel nulla in pratica si dice che dal capitolo 1 al capitolo 39 l'avrebbe scritto isaia e dal capitolo 40 al capitolo 63 l'avrebbe scritto un secondo isaia e o un terzo isaia chiamato trito isaia dei capitoli 1 a 39 ci sono alcuni capitoli o alcuni piccoli pezzetti che anche lì non avrebbe messo il dito isaia poi vedremo piccole parti ma comunque bene poi loro prosegue prosegue questa posizione nomina sciro includendo nell'affermazione che non può essere isaia ad averlo scritto perché perché loro dicono non può essere stato isaia a nominare il sciro perché seppur l'onnipotenza divina potrebbe sì trasportare il profeta in un avvenire lontano separandolo così dal presente testualmente stiamo leggendo e cambiare le sue immagini i suoi pensieri ma dicono loro ciò suppone uno sdoppiamento di personalità e una dimenticanza dei suoi contemporanei verso i quali è stato inviato che sono senza esempio nella bibbia e contraria alla nozione stessa della profezia che fa intervenire il futuro solo come un insegnamento per il presente quindi si tratta di un anonimo o continuatore di isaia che noi chiamiamo deutero isaia il quale ha predicato in babilonia ai tempi di ciro potremo andare avanti ma ci viene veramente da piangere quindi non può essere una profezia perché presuppone uno sdoppiamento di personalità e una dimenticanza dei suoi contemporanei pensate presupporrebbe questo verso i quali è stato inviato e quindi non può dimenticare perché se fa una profezia li dimentica e questo non trova alcun esempio nel resto della bibbia bene allora noi gli domandiamo se hanno mai letto ose a gioele amos a dio a miche a abba cuc so fonia a ge o zaccaria malachia apocalisse luca 21 luca 21 29 matteo 24 non lo so le hanno mai lette queste cose queste profezie questi passaggi e che erano tutti bipolari come dicono loro uno sdoppiamento della personalità e che sono stati tutti bipolari allora i profeti minori i profeti maggiori geremia babilonia che parla sia della babilonia presente che di quella futura queste cose le abbiamo noi ci occupiamo tra l'arto di escatologia queste cose le abbiamo sempre insegnate nei nostri video bene allora ricordate che a me diciamo fa piacere quelli che mi chiedono i video sull'apocalisse presto o tardi dovremo iniziare perché me li state chiedendo già in diversi e quindi giustamente è nostro dovere rispondervi ma guardate che c'è molta più apocalisse in tutti i profeti minori che nella stessa apocalisse se vuoi veramente conoscere l'apocalisse quello che succederà negli ultimi tempi ti devi leggere attentamente più volte tutti i profeti minori ripetiamo c'è molta più apocalisse nei profeti minori che nella stessa apocalisse quindi per capire l'apocalisse devi leggere l'apocalisse daniele che appunto camminano a braccetto e tutti i profeti minori inoltre isaia presenta una marea di passi dell'apocalisse quindi se rifiutiamo isaia come profeta che avrebbe profetizzato ciro babilonia eccetera eccetera perché appunto bipolare perché dobbiamo rifiutare tutte le profezie di isaia cominciando da quelle messianiche davanti a questa affermazione l'alta critica alza le mani non sa cosa rispondere ma andiamo avanti bene distruggendo la paternità di isaia in questo modo si distrugge la profezia biblica ora c'è un qualche cosa di molto importante vi vogliamo portare a navigare con noi venite allora ok scusate ecco bene allora tra questo momento ok siete qui con noi allora loro dicono isaia non non può essere stato perché non non può essere stato l'abbiamo già detto lo vogliamo ripetere non può essere stato perché appunto non può aver profetizzato perché c'è lo sdoppiamento perché c'è il bipolarismo perché non sarebbe stato corretto nei nei suoi nei confronti dei suoi contemporanei eccetera 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 però dicendo questo il collegio cardinaliesi il papato e tutto il prelato si mette contro lo stesso libro di isaia perché isaia dice esattamente il contrario se noi andiamo a vedere isaia capitolo 44 isaia 44 eccolo eccolo qua mettiamo un pochino più grande ok allora isaia 44 verso 6 all'8 dice così ha detto il signore il re di israele il suo redentore il signore degli eserciti io sono il primo io sono l'ultimo non vi è dio alcuno fuori di me chi come me che abbia chiamato e dichiarato e ordinato quello che io stabilì il mio popolo antico poi dice annunzio loro quei di le cose future e quelle che avverranno non vi spaventate non vi smarrite non ti o io fate intendere e dichiarate queste cose già ab antico e voi me ne siete testimoni evi alcun dio fuori che me non vi è alcuna altra rocca io non ne conosco alcuna qui isaia stesso ovvero i dio attraverso isaia ci sta dicendo che lui dimostra di essere dio anche attraverso la profezia quella che negano non solo i gnostici i massoni la new age l'alta critica ma adesso anche il mondo cattolico stesso non tanto i fedeli quanto il collegio cardinalizio e il papato ma andiamo avanti isaia 45 21 allora isaia 45 punto 21 dice annunzio loro scusate annunziate loro e fateli appressare ed anche prendano consiglio insieme chi ha fatto intendere questo ab antico chi l'ha annunziato già da lungo tempo e non sono io esso il signore fuori del quale non vi è alcun altro dio il dio giusto e salvatore fuori di me non v'è alcun altro ecco qui che dice che io ho annunziato già da lungo tempo quindi proprio il carattere uno il carattere di isaia presenta proprio la profezia e questa questa quello che loro contestano sia l'alta critica che anche la chiesa cattolica è la parte che va dal 40 al 66 che è la seconda parte guarda caso è proprio quella parte che dice queste cose che dimostra che dio è dio proprio perché usa la profezia quindi dimostra questo che non è vero affatto quello che lui dice e questo va a confermare ulteriormente oltre tutte le prove che porteremo che isaia è l'unico autore del libro che che ne dicano i cattolici che che ne dicono i massoni che che ne dicano i gnosticini che che ne dicano questi quattro ufologini che vanno facendo video senza alcuna competenza e che si contraddicono da soli come abbiamo già potuto vedere all'intro del video del presente video isaia 46 isaia sempre 46 quindi ci troviamo nell'ultima parte dal verso 9 al 10 dice ricordate ricordatevi delle cose di prima scusate che sto parlando poi mi va via un po' la voce ricordatevi delle cose di prima che furono già abantico perciò che io sono il dio e non viene alcun altro fuori di me io ne sono pari a me annunzio da principio la fine cioè il carattere di questa parte di questa seconda parte dice proprio che lui annunzia da principio alla fine e abantico le cose che non sono ancora fatte che dico il mio consiglio sarà stabile io metterò ad effetto tutta la mia volontà voglio vedere una cosa nella mia Bibbia abbiate pazienza io questa Bibbia non la cambio per niente al mondo questa è la vecchia di Odati che tutte le porcherie che scrivono in appendice non nel testo vero il testo vero testi canonici nulla da dire ma l'appendice come vedete è completamente antibiblico allora io volevo vedere una cosa che sta allora quando noi abbiamo letto questo qua e infatti è come dicevo io lo stavo pensando ho detto però fammi controllare perché a volte posso dire delle cose che non sono corrette qui dice qui dice che annuncio da principio la fine e abantico le cose che non sono ancora fatte che dico il mio consiglio sarà stabile ed io metterò ad effetto tutta la mia volontà quindi qui in questo questo è il capitolo no però io voglio andare a quello precedente eccolo qua capitolo 45 che è il 21 voglio fare così allora il capitolo 45 il verso 21 dice annunziate loro e fateli apprezzare ed anche presentano consigli insieme che ha fatto intendere abantico chi l'ha annunziato già da lungo tempo non sono esso io il signore quindi qui in questo capitolo 45 sta dicendo che il signore annuncia già abantico ha annunziato già da lungo tempo le cose e quindi che lui dimostra che praticamente è il dio attraverso anche la profezia perché le profezie che si trovano nella bibbia non le troverete in nessun altro libro sulla faccia della terra cominciando da quella porcheria di libro di nostra damus che racconta solo frottole se l'avete letto e quindi è talmente precisa la parola di dio che addirittura ha fatto delle profezie dando addirittura il nome della persona quindi loro dicono che siccome lui ha fatto questo l'alta critica la chiesa cattolica dicono che siccome nella seconda parte del libro che va dal capitolo 40 al capitolo 66 vi si trovano queste profezie non può essere possibile anche perché si tratterebbe di uno sdoppiamento e tutto quanto l'alta critica dirà no non è possibile il soprannaturale eccetera eccetera ma proprio qui nel capitolo 45 parla di Ciro così ha detto il signore a Ciro siccome non è possibile secondo loro questo ora finché lo fa l'alta critica lo possiamo capire perché sono massoni perché sono gnostici perché sono atei eccetera eccetera ma quando lo fa la chiesa cattolica veramente ci cascano le braccia perché qui in questo in questo capitolo che parla di Ciro al verso 21 lui dice io queste cose le annuncio ab antico o già da lungo tempo per dimostrare appunto che io sono Dio è lo stesso capitolo che ti che ti dice che si tratta di una profezia e non di un fatto contemporaneo sempre se facciamo finta questo rivolto agli ufologini agli ufologi agli gnostici se facciamo finta di credere a quello che leggiamo allora facciamo finta o non facciamo finta perché qui si dice sempre di far finta di credere a quello che si legge ma poi in verità non si fa mai finta potremo andare avanti potremo andare nel capitolo 48 verso 3 a 5 e continuare e dire io annunziai già abantico le cose di prima e quelle uscirono dalla mia bocca ed io le feci intendere poi di subito le ho fatte e sono avvenute quindi è esattamente tutto l'opposto benedetto il santo nome del Signore bene vabbè allora se fosse vero se fosse vero quello che dicono i cattolici visto che loro però accettano non si capisce perché le profezie messianiche dovremo scartare tutte le profezie messianiche che si trovano nel libro di Isaia che noi le abbiamo contate per voi personalmente le abbiamo contate per voi non è che abbiamo visto sono totte che qualcuno ce l'ha detto no è un lavoro che abbiamo fatto noi per voi sono circa 122 poi parleremo meglio di questo 122 ora il fatto che Isaia viene tanto attaccato è proprio per queste profezie messianiche 122 profezie messianiche solo in Isaia ma e non ci venite con la storia agli ebrei perché gli ebrei le riconoscono le profezie messianiche solo che le profezie messianiche si dividono in due gruppi il messia re e il messia ucciso morto e risorto quella parte lì loro la rinnegano ma le altre le riconoscono tutte gli ebrei ortodossi eccetera mentre invece gli ebrei messianici riconoscono anche le altre e poi noi non ci occupiamo di religioni ma di bibbia quindi non andiamo a pescare gli altri come questi ufologi dicono la frase infelice io non mi occupo di teologia noi diciamo ma di bibbia noi diciamo non ci occupiamo di religioni ma di bibbia quindi atteniamoci alla bibbia non lasciamo stare le religioni sempre se volete far finta di credere a quello che vi è scritto nel suo contesto però quindi vita eterna inferno peccato eccetera eccetera ora la domanda del milione è cominciamo adesso a smontare il fatto continuiamo a smontare il fatto che si trovano più Isaia allora se fossero stati più Isaia a scrivere Isaia scusate pleonastico ovvero se ci fosse stato oltre che un proto-Isaia ci fossero stati anche un deutero-Isaia e un trito-Isaia già con questo qui che vi abbiamo mostrato possiamo cominciare a vedere che quello che dice l'alta critica quello che dicono i massoni quello che dicono i gnostici quello che dice la New Age quello che dice l'agnosticismo quello che dice Scientology quello che dice l'alta critica e quello che dicono i cattolici i rappresentanti dei cattolici salutiamo tutti gli amici cattolici che ci seguite dobbiamo difendere la Bibbia non è un attacco ma è cercare di difendere la Bibbia dagli attacchi che è diverso ok noi amiamo più la Bibbia che tutto il resto perché la Bibbia non è un libro è Cristo impara con tutto rispetto parlando quindi solamente con queste cose che noi abbiamo letto nella seconda parte che va dal 40 al 66 che è la parte che si vuol mettere in discussione ovvero non vuol essere attribuita a Isaia ok con questo qui abbiamo visto che è lo stesso Signore che dice che qui si parla di profezie e non che non sono profezie allora che fai Dio dice no io sto annunciando le cose già ab antico queste sono profezie e poi invece non ci presenta delle profezie è una contraddizione non è vero non si fa finta di credere a quello che si legge si sta dilungando sto video vorrei sbrigarmi un altro punto che ci dimostra che Isaia Isaia è stato scritto da un solo autore sono le profezie messianiche qualsiasi persona conosca la parola di Dio sa perfettamente che le profezie messianiche nell'Antico Testamento sono circa 330 minimo potrebbero essere di più ma siccome non è chiaro quindi allora si va vabbè 330 però sono sicuro circa ok ora di queste 330 profezie messianiche un terzo di queste solo un terzo si trovano solo nel libro di Isaia nel libro di Isaia si trovano 122 profezie messianiche su un totale di 330 circa e queste profezie si trovano dal primo capitolo al 66 capitolo se fossero stati tre Isaia a scrivere il libro di Isaia sarebbe stato impossibile far sì che tre teste potessero mettersi d'accordo guarda caso nell'inserire nello stesso scritto ben un terzo quindi circa il 33% virgola 33 3333 delle profezie messianiche in un solo libro e tutte quante con lo stesso linguaggio troppe coincidenze amici miei l'alta critica l'ognosticismo la massoneria il collegio cardinalizio il papato si sono schierati conto Cristo anticristo e noi denunciamo questo fatto e dimostriamo con competenza perché ci vuole competenza per insegnare se no non puoi insegnare puoi fare una predicazione ma insegnare è un'altra cosa allora che ci stanno a fare le facoltà le università i professori che esistono a fare i libri i dizionari biblici che esistono a fare non ci ha ma tu tuo figlio ce lo mandi a scuola tu manderesti a scuola tuo figlio con un professore all'università nelle superiori che non ha alcuna competenza che non capisci niente ce lo manderesti ma quando si parla di Bibbia tutto è contemplato ripeto tutti possono predicare se sono nati di nuovo ma insegnare un'altra cosa l'alta critica allora dice l'alta critica dice e anche la chiesa cattolica a quanto pare sottolinea la divergenza letteraria di alcune parti ma io dico ma ma voi ma dove vivete chiunque conosce un po' di letteratura noi non siamo esperti in letteratura però noi sappiamo l'ABC che ci sono stati grandi scrittori di letteratura e non solo che durante la loro esperienza letteraria hanno completamente trasformato il proprio stile di lettura a tal punto che se tu vai a leggere un loro scritto agli inizi della propria carriera e vai a leggere quelli degli altri scritti che hanno appunto concretizzato la fine della propria carriera sono due persone completamente diverse quelle che stanno scrivendo pur essendo stati scritti da un'unica mano un'unica mente un'unica persona è normale io stesso io mi occupo di amministrazione mi sono occupato di altra amministrazione ho lavorato col penale insomma lavoro faccio un certo tipo di lavoro non sto qui a dire le mie cose personali ci mancherebbe però insomma nel mio lavoro scrivo non non so scrivere perché sono figlio di uno che sapeva scrivere perché adesso non sta più bene il babbo ma il mio babbo è stato un erudito insomma uno che scriveva a un certo livello lo chiamavano per per presentargli delle bosse di libri perché lui le correggesse non c'ava tempo poi infatti gli diceva sempre de no però insomma quindi pur non sapendo scrivere so riconoscere chi sa scrivere perché io non so scrivere scrivo per carità nel mio lavoro scrivo ma so di non saper scrivere saper scrivere è un'altra cosa ecco è un'altra io so fare altro nella vita però diciamo nel mio lavoro utilizzo un linguaggio prettamente amministrativo ci sono delle regole ferre che non non puoi non puoi scrivere in modo diverso eccetera eccetera se tu vedi come io scrivevo vent'anni fa scrivevo in modo completamente diverso di oggi è normale quindi è normale che ci siano delle differenze di tipi di scrittura nel libro di Isaia dal momento che Isaia ha portato avanti il proprio ministerio per decenni inoltre il linguaggio culturale le influenze le richieste del popolo implicano questo per esempio noi oggi stiamo utilizzando dei termini che dieci anni fa non usavamo computer desktop addirittura oggi cammini in mezzo i negozi e invece di scriverci saldi trovi scritto sale io dico sale ma che bello nel sale questi sale saldi le influenze delle nazioni estere la stessa richiesta del popolo che a a me è stato detto ah perché tu parli un po' troppo allora sono sceso ho cominciato a parlare un po' più alla mano un po' più romano così non c'è certe persone hanno l'impatto quando parliamo difficile noi non abbiamo mai parlato difficile perché siamo contrari abbiamo sempre parlato in modo semplice però siccome alcuni dicono ah questi perché qui pare che chi studia è una persona da perseguitare è sempre stato così sia dentro il cristianissimo che fuori eppure noi non siamo degli studiosi tra l'altro noi nel nostro piccolo sappiamo delle cose sì abbiamo studiato ma non è che stiamo dalla mattina alla sera sui libri il fatto è che con i decenni da bambino io sono qui in mezzo a tutto questo mondo e dopo decenni decenni e decenni vuoi o non vuoi un po' di roba scusa ecco scendiamo un po' di roba mecentrata in testa cominciando anche dalle lingue originali eccetera 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 ecco quindi è normale il popolo richiede un certo tipo di linguaggio molte volte e lo scrittore si adegua tutte queste cose qui nella letteratura eccetera eccetera sono fanno parte delle regole anche poi tutto questo lo vedremo un pochino meglio più avanti benissimo ora vabbè questo qui ok già l'abbiamo detto si cerca sempre l'alta critica per distruggere la paternità di Isaia e quindi distruggere tutto il libro di Isaia e quindi la figura messianica di Cristo e quindi l'antico testamento e quindi poi si vuole negare che il nuovo testamento centri con l'antico c'è un disegno diabolico in tutto questo ok si è portato Isaia prima a un secondo poi a un terzo quindi che da un periodo di tempo che va dal 750 avanti Cristo fino addirittura al 200 avanti Cristo il che è impossibile per le ragioni già espresse e per tutto quello che ancora vedremo perché siccome noi abbiamo competenza del linguaggio originale della Bibbia l'ebraico biblico o l'ebraico classico vi mostreremo anche alcune cose e quindi si vuole completamente annullare questo personaggio allora è molto strano pensare che un popolo come gli ebrei che qui bisogna conoscere gli ebrei e il giudaismo un popolo così rigoroso nel conservare le proprie tradizioni le proprie memorie i propri scritti abbiano perso ogni traccia di uno o forse del più grande profeta che loro abbiano mai avuto fino al punto di giungere a pensare che ci sono più Isaia perché non si sa chi ha scritto questo libro questo è falso il fatto è che i massoni stanno dappertutto e ci sono anche massoni in mezzo agli ebrei ecco perché loro presentano le affermazioni fatte da alcuni massoni tra cui anche ebrei tra cui anche dell'università di non so di AFA di Gerusalemme eccetera eccetera dove dei massoni ebrei hanno detto delle falsità e loro dicono vedete l'hanno detto gli ebrei ma quello è un massone ebreo andiamo a sentire tutti quanti gli altri studiosi e valutare tutte le posizioni noi vi stiamo presentando adesso un discorso tecnico un discorso veramente possiamo definirlo scientifico è risaputo che per inserire un nuovo scritto sia negli scritti veterotestamentari sia negli scritti post diciamo del giudeismo moderno col Talmud e tutto quanto è impossibile quando è stato chiuso il canone biblico il canone biblico è stato chiuso circa nel 400 avanti cristo come tu puoi portare un terzo isaia nel 200 avanti cristo quando nel 400 avanti cristo è stato chiuso il canone non regge non regge il canone veterotestamentario è stato chiuso nelle 400 avanti cristo e questi sono dati oggettivi ma siccome la gente è ignorante non sa nulla e si vuole mettere in cattedra a insegnare gente che è involucrata con l'ognosticismo che non sanno manco loro quello che dicono ufologi navi spaziali Elohim no che che nessuno sa quello che vuol dire Elohim quando invece è vero si sa perfettamente quello che vuol dire e poi loro dicono che questi Elohim sono degli extraterrestri sono che questi sono marzianini ma questi si sono fumati i peyote del messico solo un infelice o un satanista potrebbe pensare che degli scritti sono stati inseriti nel 200 avanti cristo nei scritti ufficiali soprattutto il libro di Isaia pensare che ogni traccia del profeta vero Isaia si sia perso nel giudaismo va oltre i confini della realtà intellettuale e razionale invece di pensare alle divergenze perché loro dicono no ci sono dei diciamo c'è una struttura di linguaggio un po' diversa o diversa tra la prima e la seconda parte quindi questo ci fa pensare ai più Isaia abbiamo dimostrato e anche la stessa letteratura ci dimostra che questo è normalissimo ma quello che invece non è normale è vedere le grandi somiglianze che si concretizzano in tutto il libro dal primo all'ultimo capitolo e attribuire queste grandi somiglianze a più autori quando queste grandi somiglianze addirittura non si riscontano più nel resto dei libri alcune di queste pensare questo significa essere incompetenti irrazionali satanisti e massoni bene veniamo a noi allora se noi allora ci soffermiamo sulle sorprendenti ed eccezionali punti di estrema somiglianza vedremo che il termine santo di Israele oltre che nel libro di Isaia si trova anche in tutto il resto dell'antico testamento il termine santo di Israele in tutto l'antico testamento oltre che nel libro di Isaia si trova cinque volte il termine santo di Israele ora se tu vai nel libro di Isaia questo termine lo trovi dal capitolo 1 al capitolo 39 12 volte che sarebbe quello che gli viene attribuito a Isaia e dal capitolo 40 al capitolo 66 che sarebbe la parte che non gli verrebbe attribuita al profeta Isaia si trova 13 volte lo stesso termine wow e questi tre Isaia a distanza di 3 4 500 anni di distanza che non si sono né visti né conosciuti si sarebbero messi d'accordo come attraverso i marcianini per scrivere tutti quanti la stessa cosa che in tutto l'antico testamento si trova solo cinque volte fuori dal libro di Isaia immagino che questi qua che si mettono in cattedra che dicono si si è vero sono più Isaia perché lo dice la chiesa cattolica perché lo dicono gli ufologi perché lo dice il birillo di turno perché lo dice il batte la pesca di turno immagino che tutti questi abbiano studiato siano preparati abbiano sentito persone che hanno competenza nella materia certo se te vai vai a sentire tu quando parla uno la prima cosa che gli devi chiedere è sei massone perché sei massone stai certo che non ti dirà tutta la verità ma per dirti la verità te la mischierà per dirti scusate la menzogna te la mischierà con la perità quindi se a questo qui noi ci aggiungiamo quindi oltre quello che abbiamo detto che il santo di Israele si trova dodici volte dal capitolo uno al trentanove tredici volte dal capitolo quaranta al sessantasei e solo cinque volte nel restante antico testamento se a questo qua ci aggiungiamo un terzo il fatto che un terzo delle profezie messianiche cioè 122 su 330 si trovano tutte nel libro di Isaia dal primo al sessantaseiesimo capitolo possiamo cominciare a capire che non ci possono essere più Isaia ovvero si tratta di un solo Isaia o no aprite la mente non abbiate la mente chiusa esiste esistono vari termini adesso Nazar Nazir Nezer Nezer Nazar un po' diversi ma vogliamo soffermarci solamente su un termine che è Nezer allora Nezer Nezer io non mi ricordo il numero che è dello Strong ah ce l'ho qua ce l'ho qua nel vocabolario il numero eccolo qua questo è il vocabolario di ebraico biblico questo qua è Nezer spero che si veda il numero sullo Strong è 5342 quindi io vado a scrivere allora vediamo Nezer scrivo così allora 5 che è 5342 sì 5342 allora eccolo qua ora dovrebbe da subito vediamo eccolo qua la cipicchia subito va eccolo qua Nezer allora questo termine Nezer ok che normalmente perché poi la radice sarebbe diciamo Nazar poi la prima forma ma la radice è questa qua è la Nun la Zade e la Resh senza le vocali sotto la radice è sempre nuda altrimenti non è radice Nazar scusate Nazar mentre invece ecco Nezer doppio segola accento sul primo Nezer ok ecco qua germoglio getto rampollo virgulto eccetera rinnovo brote un brote di un albero di una pianta eccetera eccetera allora di questo qua occorre solamente tre volte in tutto l'antico testamento tre volte e basta qualcuno dirà ma lì c'è scritto quattro eccolo qua non date retta a questo non che sia sbagliato diciamo anche Roberto che lo strong sbagli no e che lui ti dice quattro volte perché ti prende in considerazione anche i libri deuterocanonici che a noi ce ne vuole portare di meno dei libri deuterocanonici che sono a favola non sono canonici dice ma deutero non significa che so falsi pure se non significa che non so falsi lo sono punto e basta non sono canonici lo stesso Girolamo Girolamo ha ammesso che questi libri da lui tradotti nella vulgata non sono canonici lo ha detto Girolamo lui stesso lo ha detto ma adesso questa è un'altra storia quindi qui appare quattro volte ma nei libri canonici che sono 66 ok tra cui 39 dell'Antico Testamento ok di questi 39 libri canonici appare solo tre volte ok di queste tre volte appare una volta nel libro di Daniele e due volte indovinate dove nel libro di Isaia dove appare uno nel capitolo nel famoso capitolo 11 di Isaia e l'altro nel capitolo 60 verso 21 nel capitolo 11 se non vado rato dovrebbe essere il primo verso un po' vedete c'ho qui l'originale sì veiazza e uscirà hotter ramo migza ishai eccolo qua venezzer quindi e uscirà hotter ramo migza da ceppo da un ceppo ishai gli s quindi dagli s ve con congiunzione e nezzer ve nezzer un germoglio quindi è Isaia 11 verso verso 1 esatto e poi riappare nuovamente nel capitolo 66 giusto nel capitolo 66 verso 21 allora quindi noi abbiamo un termine che è nezzer che è questo qua però io adesso lasciate sta qua andiamo sull'originale che è questo a me quando io leggo meglio l'originale che le trasliterazioni allora nezzer questo qua appare tre volte tre volte lo sto a romana tre volte vabbè viate pazienza noi romani tre volte appare tre volte in tutto l'antico testamento è una parola rarissima mentre invece nazar appare più volte più di 60 adesso il numero esatto non me lo ricordo comunque sta scritto qua nazar quante volte appare sì 61 volte c'hanno ragione più di 60 però adesso lasciamo sta nazar con nazirea con c'è tutta una storia dell'infinito bellissima però adesso quindi nezzer è un termine rarissimo nella scrittura è rarissimo cioè tre volte in tutto l'antico testamento e basta e quindi è altamente significativo che questo termine appare due volte di queste tre volte solo nel libro di Isaia e la prima volta appare nella prima parte che verrebbe attribuita a Isaia e guarda caso la seconda parte che non verrebbe attribuita a Isaia il capitolo addirittura 66 che verrebbe attribuito a un trito di Isaia del 200 avanti Cristo quando il canone biblico era chiuso da 200 anni perché si è chiusa nel 400 avanti Cristo vi appare nuovamente una parola rarissima nezzer e voi date retta voi ufologini ai vostri capi i vostri birilli di turno i vostri capi i vostri ignossici i vostri massoni e voi cattolici date retta al collegio cardinalisti al papato che dice queste stupidate ma sentite quelli che conoscono la Bibbia lasciate stare questa gente qua che la conosce mamente lasciatela stare questa gente qua andate dai cristiani veri che non è un movimento perché in mezzo di noi c'è tanta apostasia lo ha detto la parola di Dio la maggior parte dei nostri la maggior parte più del 70% non vi voglio dare il numero esatto se no vi demoralizzo più del 70% degli evangelici stanno in apostasia è un dato allarmante da morire tant'è che il Signore ha detto quando io verrò la troverò la fede la fede il valore la predicazione il credere veramente a quello che c'è scritto il seguire il vivere lasciate stare le religioni seguiamo Cristo questo non vogliamo braciare la denominazionalismo dobbiamo sempre essere coerenti coscienti razionali un'identità ce la devi avere un nome ce lo devi avere ma non è il nome che ti dà la verità poi ma siamo evangelici perché ci dobbiamo i primi i primi i credenti furono amati cristiani proprio perché devi avere un nome poi da qui a entrare nell'orgoglio denominazionale quello si chiama satanismo o la denominazionalismo anche quello il satanismo è stato creato niente meno che dal vaticano con concilio vaticano secondo ma questa è un'altra storia quindi come vedete la paternità di più Isaia al libro di Isaia è una sciocchezza Netzer ne è un altro esempio di quello che stiamo dicendo benissimo allora andiamo avanti se tu leggi adesso qui siamo entrati un po' in quello che è il linguaggio originale potremmo proseguire con questa storia però poi dopo dici ah io non capisco il linguaggio originale va bene ok allora le nostre Bibbie sono tradotte benissimo anche queste sono tradotte bene a parte le frasi infelice che troviamo in appendice o prima se noi leggiamo le nostre Bibbie qualsiasi Bibbia tranne quella dei testimoni di Genova possiamo vedere che sono tradotte bene che l'uso di immagini di fuoco per rappresentare il castigo di Dio ricorre in tutto il libro dimostrando così quanta unità letteraria di stile insomma si trova in tutto il libro la cosa che ci lascia disarmati che ci lascia perplessi sconvolti di quanta ignoranza c'è da parte soprattutto dell'alta critica e anche da da questi che hanno scritto queste cose qua è che se tu studi la storia dei profeti post esilio sai che significa post esilio non vi vogliamo da troppe informazioni perché poi dura 40 ore sto video cercate di capire i profeti post esilio non si sono mai preoccupati per l'idolatria dei cananei su Canaan del popolo in Canaan del popolo ebreo in Canaan praticamente questo discorso è quasi nullo nullo mentre invece in Isaia è presente in tutto il libro ora se fosse vera l'ipotesi o la pseudo ipotesi o la pseudo chimera o la grande chimera che ci sarebbero più Isaia che una addirittura sarebbe del 200 avanti Cristo e l'altro del 400 del 500 quello che è come mai si sarebbe scostato inserendo appunto invece questo argomento perché lo troviamo in tutto l'ebo di Isaia che si preoccupa del fatto che c'è l'idolatria cananea del suo popolo come interagisce con questa si sarebbe discostato da un punto di vista letterario da tutti quanti gli altri profeti perché sarebbe stato l'unico che avrebbe parlato di una cosa che nessuno si è mai sognato degli altri profeti del post esilio di fare salvo qualche rarissimo accenno mentre invece il libro di Isaia è cosparso di questo questo avvalora ulteriormente che si tratta di un Isaia ah ma queste cose voi quando vi dicono le cose non vi andate mai a informare non aprite mai la mente cioè credere dopo tutta questa informazione credere che ci sono stati più Isaia significa avere la mente come un faciolo chiusa aprite la mente il problema della datazione del libro è sorta guarda caso dopo la morte e la risurrezione del Cristo il profeta no sì il profeta ho detto la sciocchezza lo scrittore Yehuda ben come era che si chiamava ben sirà ecclesiastico ecclesiastico lo sappiamo tutti chi è ecclesiastico Yehuda Yehuda ben sirà non mi ricordo se Yehuda ben sirà o Gesù ben sirà allora facciamo così sirà eccolo qua ben sirà però è figlio di 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 na è sì dovrebbe essere Simone figlio di Gesù chiamato figlio di sirà va bene allora questo scritto questo scritto è datato il il 200 ok il 200 avanti Cristo questo scritto apocrifo quello che te pare ci mancherebbe ed è il 200 avanti Cristo nel 200 avanti Cristo questi anche se è uno scritto apocrifo però erano tutti dottori dicono dicono nel capitolo mi pare 44 45 di questo libro che il libro di Isaia era un pezzo unico ed era stato scritto tutto da Isaia nel 200 avanti Cristo cioè le testimonianze che andranno contro questa cosa qua sono tutte dopo Cristo perché perché gli ebrei che si sono dati all'ognosticismo che sono stati tanti noi sappiamo che gli scritti gnostici sono tutti ebrei sono stati scritti dagli ebrei e quindi hanno voluto distruggere la Bibbia soprattutto Isaia ecco perché sono stati loro a voler screditare Isaia come attribuendo più personaggi a questo libro di Isaia che poi l'alta critica l'ha portato all'ennesima potenza ecco perché ci sono ebrei che stanno in massoneria all'università di Gerusalemme che vanno dicendo sciocchezze ecco perché noi vi diciamo sempre informatevi se vi è qualche ebreo se è qualche massone dietro a queste affermazioni questo è molto importante mamma mia quanto è tardi il Qumran possiede una copia di tutto il libro di Isaia datato il 200 avanti Cristo il che significa che minimo 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 è stato è stato copiato da un altro libro che era del 400 avanti Cristo ed è un blocco unico l'assetto aginta ci fa capire che si trattava di un unico libro ed è stata scritta da 71 rabbini e avallata dal sommo sacerdote qualcuno dirà no ma noi non gli ebrei non sono d'accordo a noi non ci interessano le religioni quello che fanno perché sono contrari a Cristo la setta aginta è una revisione della Bibbia come lo è la revisione fatta in italiana in inglese in portoghese come te pare ed è buonissima nessuna revisione è perfetta ma questo è un altro discorso anche quelle nostre non sono perfetti i testi originali ma da qui a cambiare a stravolgere il linguaggio o il messaggio mi pare eccessivo il fatto che gli ebrei non sopportano la figura del Messia come Gesù ecco perché odiano la septoginta ma gli ebrei messianici non la odiano per terminare Dulcis in fundos se facciamo finta di credere di credere a quello che vi è scritto possiamo vedere che fu lo stesso Gesù a parlare di Isaia oppure i suoi discepoli e mai nessun rabbino dell'epoca troviamo che li abbia smentiti in Matteo 3.3 è scritto il profeta Isaia disse vi è uno che grida nel deserto qui sta parlando di Isaia 40 lo sappiamo tutti poi Matteo 4.14 ancora parla del profeta Isaia e qui sta parlando di Isaia 8.23 Isaia 9.1.2 ancora Matteo 8.17 perfetto Matteo 8.17 ancora parla di Isaia e qui sta parlando di Isaia 53 ancora abbiamo Matteo vediamo se 12.17 ancora parla di Isaia e sta parlando di Isaia 42 verso 14 ancora abbiamo Matteo 13 verso 14 e sta parlando di Isaia dice bene udriete ma non intendete e sta parlando di Isaia 6.9 ancora abbiamo Matteo 15 verso 7 e parla di Isaia e sta parlando di Isaia 29 ancora abbiamo Luca 20 42 42 e sta parlando sempre di del salmo che non c'è niente con con Isaia e quindi ci siamo sbagliati fa niente Giovanni succede no perché tu non ti sbagli mai ancora parla di Isaia e parla di Isaia 53 ma verso 1 perché attenzione Isaia 53 non è una profezia in Isaia 53 ci sono una marea di profezie e in Isaia 53 viene profetizzata la morte e la risurrezione di Cristo attenzione Giovanni 12 verso 38 parla sempre di Isaia 53 eccolo qua Isaia ma non solo fatti 8 28 parla sempre di Isaia 53 eccolo qua Isaia Romani 9 qui è il rabbino Paolo uno il più grande rabbino 27 che ci fu al tempo eccolo qua Isaia parla di Isaia 10 Isaia 11 Isaia 1 Isaia 1 9 Isaia 11 11 Isaia 10 20 21 e qui è il rabbino Paolo a parlare il più grande rabbino che fu anche un hacham cioè un sapiente potre 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 potremmo potremmo proseguire con Romani 10 20 21 che parla di Isaia 65 1 2 Romani 15 12 parla sempre di Isaia 11 10 e anche Isaia 49 6 quindi noi vediamo che sia Gesù sia gli apostoli tipo Matteo Luca sia il rabbino Paolo parlarono di Isaia investendo così i capitoli 40 i capitoli 8 capitolo 8 capitolo 9 capitolo 53 capitolo 42 capitolo 6 capitolo 29 capitolo 61 capitolo 53 capitolo 10 capitolo 11 capitolo 1 capitolo 65 capitolo 49 quindi investendo tutti quanti i capitoli sia dall'1 al 39 che l'alta critica attribuisce a Isaia e sia dal 40 al 66 che l'alta critica non attribuisce a Isaia ma sia Gesù sia gli apostoli sia Paolo attribuiscono a Isaia tutti questi capitoli ci sono troppe testimonianze che ci fanno comprendere che la posizione dell'alta critica è una posizione massonica agnostica e la posizione del prelato del collegio cardinalizio e del papato è una posizione anticristiana anticristo inoltre come si può dire che non c'è correlazione fra nuovo testamento e antico testamento se solo con Isaia vi sono una marea di referenze all'antico testamento e al dio dell'antico testamento e al Yahweh dell'antico testamento solo con il termine Isaia quando ci sono centinaia di riferimenti nel nuovo testamento nei confronti dell'antico testamento e del dio dell'antico testamento le persone che dicono che non c'è relazione tra il dio del nuovo testamento e il dio dell'antico testamento e fra il nuovo testamento e l'antico testamento sono persone o che sono di una ignoranza unica non capisco perché se mettono poi a insegnare oppure sono satanisti gnostici massoni eccetera 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 bene è chiaro che ci si trova davanti a gente che mente spodoratamente completamente irrazionale e che non fa altro che seguire i loro capi per concludere le stesse regole dell'alta critica le stesse regole dell'alta critica create dall'alta critica impongono che bisogna accettare un unico Isaia come autore compitore e scrittore di questo libro perché perché dicono le regole dell'alta critica che quindi andiamo a concludere dicono le regole dell'alta critica che finché finché non ci vengono portate sufficienti prove per dimostrare il contrario cioè che Isaia non è non sarebbe l'unico scrittore del suo libro finché non ci vengono portate sufficienti prove questo non potrà mai essere avallato beh queste prove non ci sono mai state fornite anzi anzi le regole sulle quali si fondano tutte queste ipotesi dei appunto due autori anonimi sono le più fragili che siano mai state riscontrate in tutta la storia della cultura e della letteratura e con questo concludiamo cari amici perché questo video si è dilungato dilungato abbastanza ora se la verità assoluta cari amici gnostici non esiste che cercate se la verità assoluta non esiste che cercate se la verità assoluta non ce l'ha nessuno è una verità assoluta questa che la verità non ce l'ha nessuno e soprattutto perché fate dei video se in fondo voi non volete inculcare nulla alla gente bene e potremo andare avanti ma andremo a ripetere quanto già detto nell'intro quindi vi lasciamo con queste parole cari amici gnostici aprite la mente uscite fuori da questi schemi da questa prigione che la massoneria vi ha creato e siate liberi pensatori che Dio vi benedica con voi è stato sempre Alessio Evangelisti se Dio vuole ci vediamo al prossimo videoprogramma Shalom grazie a tutti grazie a tutti